Operazione Sport Amiche e amici di Operazione Sport in video ben ritrovati al nostro appuntamento sul mondo calcistico e dilettantistico non solo sul calcio a 11 ma anche sul calcio a 5 e quindi sul futsal di cui parleremo quest'oggi con i nostri ospiti oggi in particolare per il Corigliano Calcio quindi squadra d'eccellenza calabrese è venuto a trovarci Beskin direttore generale già albitro internazionale come molti di voi ricorderanno che salutiamo Buonasera direttore Buonasera a voi e dall'altra parte invece un volto a noi noto il tecnico della Traforo Rossana quindi parliamo di futsal di calcio a 5, mister Giuseppe Madeo Buonasera mister Buonasera a voi e allora per ciò che riguarda il mondo del calcio a 11 iniziamo subito parlando direttore di questa prova davvero frizzante da parte dei biancazzurri una prova che ha permesso al Corigliano nel sconto diretto col Cutro di raccogliere tre punti più che importanti per rilanciarsi nella corsa salvezza è solo un primo passo però era un po' dovuto questo cambio di passo se vogliamo i segnali già si vedevano da qualche domenica a questa parte i risultati purtroppo ci penalizzavano però un qualcosa di diverso di più vivo di più interessante rispetto alle precedenti gare si notava e si vedeva domenica siamo riusciti ad ottenere una vittoria importante, importante per il nostro morale, per i nostri mezzi per il mister che non ha mai avuto titubanze nel suo lavoro, nel credere nel suo lavoro in questi ragazzi che nonostante situazioni avverse hanno sempre dimostrato di essere attaccati al loro impegno, alla loro maglia e devo dire che non è solo un risultato che ci aiuta nella classifica e ci fa ben sperare è un risultato che ci dà molto molto morale domenica ho visto i ragazzi stringersi a abbracciarsi negli spogliatoi come da tempo non vedevo spero sia, anche se domenica abbiamo una gara di tutto rispetto e impegnativa per noi però noi andiamo ad affrontarla a viso aperto consapevoli di trovare degli avversari sicuramente più importanti di quello che è il nostro gruppo e la nostra formazione ma proprio per questo andremo là sereni ci giocaremo la nostra partita e poi il risultato del campo lo accetteremo Ecco facciamo un passo indietro perché giustamente diceva il direttore qualche segnale si era già intravisto peccato per quella gara di Siderna aggiungiamo noi perché è stata proprio la gara precedente dove si poteva chiudere sul 2 o 3 a 0 addirittura invece è arrivata una sconfitta un po' amara dobbiamo dire però è arrivata una si è ritornati da una trasferta senza punti e forse riusciamo anche a capire la rabbia poi investita nella giornata di domenica nel penultimo turno d'eccellenza d'andata Ma guarda già un risultato di parità ci sarebbe stato molto stretto ci avrebbe sicuramente penalizzato però avremmo raccolto un punto che fuori casa con una squadra che avevamo grande rispetto sia per la situazione logistica che per la classifica particolare che anche loro hanno eravamo andati là con molto rispetto di loro e con grande determinazione per riuscire a raccogliere un qualcosina di buono ci eravamo riusciti siamo andati in vantaggio loro sono rimasti in 10 quindi una ragione in più che eravamo consapevoli di poter fare un qualcosa di bello e di buono abbiamo sbagliato parecchie occasioni che gridano ancora vendetta per come si sono verificate poi la beffa finale che oltre che al pareggio che loro in 10 sono riusciti ad ottenere c'è stata la beffa di un infortunio che purtroppo ci può stare nel calcio e siamo tornati a mani vuote quindi già il pareggio ci avrebbe penalizzato siamo tornati con una sconfitta quindi immagino anche da parte dell'ambiente calcistico di Corigliano gli sportivi che anche là ci hanno seguiti e che ringrazio perché mai ci hanno abbandonato nonostante una situazione di classifica precaria devo dire che siamo rimasti molto molto amareggiati anche con il mister nel pulmo ritornando e analizzando il tutto per come si è verificato e per come è andato a finire avevamo la giusta rabbia di fare bene questa domenica qua perché ci siamo sentiti veramente penalizzati tutti tutti quanti dal primo all'ultimo e domenica che veniva una squadra che la domenica prima aveva battuto il Locri squadra che qui a Corigliano ha ben figurato e ben impressionato credo che questo sia proprio il passo conseguenziale alla prestazione di domenica che ci ha consentito di fare questa bella vittoria Con il direttore Gianni Beskin poi torneremo tra poco a parlare anche di mercato di futuro e di avvenire del Corigliano almeno per quelle che sono le novità nell'area al momento apriamo invece la parentesi sul futsal e quindi parliamo di traforo rossano e di questa annata mister un'annata possiamo dire forse particolare non solo per il campionato in sé per sé ma anche per ciò che vi riguarda perché qualche avversità che abbiamo così a livello di organico forse sta condizionando un po' l'addamento dei risultati Diciamo che sì, è un campionato un po' particolare, siamo partiti un po' così in sordina perché abbiamo totalmente cambiato la squadra rispetto allo scorso anno quindi cambiare squadra, cambiare gruppo non è semplice poi assemblare nuovi in corso d'opera abbiamo portato delle correzioni, abbiamo inserito dei giocatori nuovi non ultimi due ragazzi brasiliani che hanno già esordito, ci stanno dando un grosso contributo però è chiaro che bisogna amalgamare un gruppo, bisogna trovare degli equilibri di squadra quindi servirà del tempo per poter fare questo poi è chiaro che una volta trovato questo ci sarà anche più possibilità di ottenere dei risultati in questo momento siamo un po' staccati dalla vetta però siamo lì nel gruppone e in più abbiamo acquisito la possibilità di poter fare le Final Four a gennaio di Coppa Italia quindi che per noi potrebbe essere un traguardo estremamente importante Ecco a proposito di Coppa Italia è sempre un piacere qualificarsi ad un evento di questa portata mister Matteo non è nuovo tra l'altro a disputare una manifestazione di Coppa e sarà importante però arrivarci con il giusto stato di salute se vogliamo Sì dovremmo, intanto ci sono sempre arrivato molto vicino sia col Corigliano in Serie A2 in Sardegna sono arrivati molto molto vicini quando ricoprivo un altro luogo di direttore però insomma sarebbe stata una bella soddisfazione poter mettere le mani su quel trofeo ci sono arrivato da allenatore due anni fa in finale purtroppo perso adesso mi accingo a fare la mia terza finale le mie terze finale insomma però insomma cercherò spero, auspico che insomma possa andare in maniera diversa rispetto alle altre manifestazioni Tornando al campionato che torneo è quello di questa stagione più difficile o comunque che differenze ci sono anche rispetto agli anni passati? Guarda Cristian è un campionato molto molto bello, molto avvincente perché è un campionato molto equilibrato, equilibrato è di livello abbastanza alto quindi livellato verso l'alto, non c'è una squadra a mazza campionato come lo era stato lo scorso anno o comunque negli anni passati quindi questo rende il campionato molto più divertente noi comunque pur essendo un po' staccati dalla vetta ma comunque siamo lì comunque ad oggi ancora abbiamo la speranza di poter scalare delle posizioni è chiaro che bisogna trovare continuità di risultati perché diversamente le altre poi prima o poi qualcuno inizierà a scappare Se le distanze si possono colmare dobbiamo anche aggiungere che diverse sono state anche le squadre che si stanno rinforzando nella finestra di mercato in vista poi di tutto un girone di ritorno da giocare dove verranno fuori i veri valori Assolutamente sì, si è rinforzato sicuramente il Cetraro che è una delle pretendenti alla vittoria finale ci siamo in qualche maniera rinforzati anche noi con l'inserimento dei ragazzi brasiliani così come ha fatto il Cetraro si stanno rinforzando un po' tutte le altre quindi è chiaro che bisogna essere un po' più... Ripeto, la cosa che deve venire in questo momento che necessita la squadra in questo momento è una continuità di risultati perché per quanto riguarda le prestazioni mi sento di essere soddisfatto da questo punto di vista solitamente quando c'è una buona prestazione prima o poi la chiara conseguenza è che vengano dei risultati che in questo momento sono un po' così altalenanti Ultimo turno giocato e prossimo due sfide se vogliamo anche diverse ma che vanno così analizzate e studiate anche e soprattutto in procinto di quella a venire Sì, assolutamente sì noi abbiamo purtroppo, vincevamo 2-1 ci siamo fatti purtroppo ribaltare con un 3-2 che mi ha lasciato l'amore in bocca onestamente perché non meritavamo... il pareggio sarebbe stato stretto però capita che quando commettete gli errori poi rischi di perdere la partita sabato prossimo affronteremo il Croton che è una retrocessa dalla B quindi è una squadra molto esperta una squadra in salute che sabato ha bloccato il Cetraro rimontandolo dal 4-1 perdeva 4-1 non è riuscita ad impattare quindi dovremo affrontarla con le pinze perché è una squadra che comunque si esprime con grinda con determinazione una di quelle squadre che non molla mai per cui dovremmo trovarci pronti e soprattutto invertire la rotta E poi torniamo a parlare anche qui tra poco di Futsal anche di altre capitoli altre previsioni torniamo invece al Calcio 11 torniamo al Corigliano finestra di mercato che si è già aperta anche per ciò che riguarda il Calcio 11 e Corigliano un po' diviso tra quelle che dovrebbero essere le novità societarie forse imminenti e gli ingaggi per rinforzare la squadra e lo abbiamo detto anche in altre circostanze direttore che in pratica al Corigliano servirebbero almeno due pedine fondamentali ossia il centrocampista in mezzo al campo è una prima punta di ruolo e a ben vedere è anche così se vogliamo perché le tante azioni costruite spesso non trovano poi il cosiddetto finalizzatore Sì abbiamo necessariamente bisogno di rinforzarci siamo consapevoli che la squadra pur dandosi da fare pur impegnandosi ma manca un po' di quei giocatori che hanno personalità che hanno mestiere che hanno padronanza del proprio ruolo perché i nostri giovani per quanto si impegnano non li possiamo paragonare a compagni loro di quel livello lì siamo consapevoli di questa necessità però siamo anche un po' in ritardo perché il 15 chiude il mercato siamo un po' bloccati da situazioni dirigenziali c'è questo passaggio di consegne della società siamo tutti così in ansia per sapere quanto prima che tutto sia andato per il verso giusto per quel che ne so gli accordi già ci sono già le strette di mano ci sono state adesso si tratta di mettere nero su bianco come è giusto che sia anche perché so che la nuova dirigenza che dovrebbe subentrare al presidente Michele Cuccione ha le idee chiare vuole darsi da fare subito credi in questo progetto che loro si stanno accingendo ad iniziare a compiere e noi addetti ai lavori siamo ansiosi di aspettare che ci sia questa risposta dal momento in cui questa risposta ci dovesse essere ecco che allora abbiamo già un uomo di mercato che è venuto a collaborare con noi a darci una grossa mano per quel che riguarda il contattare i giocatori abbiamo l'idea chiara di quello che ci necessita forse qualche altro giocatore più dei due che hai menzionato Chris forse ne abbiamo di bisogno perché adesso siamo consapevoli che nel girone di ritorno andremo ad affrontare su determinati campi non facili squadre che non ci concederanno niente allora oltre che alla bravura ci vuole anche l'esperienza e la personalità del giocatore perché questo fa la differenza non è sufficiente solo giocare bene e impegnarsi bisogna avere anche esperienza perché in questi campi qua non ti concede niente nessuno e quindi solo in questo modo qua noi potremmo guardare al nostro futuro con molta più diremmo così fiducia per quello che sono i nostri mezzi che ci consentiranno di poter raggiungere una salvezza che credo di dover meritare perché tutti noi ci stiamo impegnando ci stiamo credendo non abbiamo mai mollato nonostante un periodo in cui non facevamo e non siamo riusciti a fare punti e quindi sappiamo che ne dobbiamo fare parecchi nel ritorno però la consapevolezza ci comporta ci consente di poter guardare con grande fiducia a questo girone di ritorno che speriamo che ci dia quello che tutti noi ci aspettiamo Girone di ritorno che inizierà poi a gennaio c'è però da onorare quest'ultimo match il calendario ha voluto mettere il Corigliano proprio di fronte alla capolista Isola Capolizzuto domenica prossima accennava il direttore poco fa sarà una gara sulla carta se vogliamo con il pronostico più che scontato visto che l'isola è una corazzata e che vuole vincerlo questo torneo però forse sono proprio queste gare dove potrebbero uscire anche altri tipi di valore soprattutto se poi il Corigliano dovesse giocare con le stesse credenziali sfoderate contro il Cutro ricordando però che non ci sarà Apicella per squalifica noi andiamo domenica prossima ad affrontare la prima della classe lo sappiamo tutti che è una corazzata nel vero senso della parola hanno fatto grossi sacrifici per vincere questo campionato lo sappiamo hanno giocatori di spessore di categoria anche superiore ma questo per noi è solo uno stimolo perché ripeto andremo là domenica a fare la nostra gara il campo ci darà le risposte che è giusto che ci dia però non andremo né sconfitti né rassegnati siamo 11 contro 11 a volte la volontà questa puntura di speranza che abbiamo avuto domenica che ci consente di essere molto più consapevoli e sereni in tutto il nostro gruppo io dico ce ne andiamo a giocare poi è normale che le differenze ci saranno e probabilmente chi riuscirà a far meglio di noi ci sarà però dico non dobbiamo partire già col fatto di dire siamo sconfitti nel calcio non è così nel calcio anni di esperienza mi insegnano che anche il più forte può perdere con il più debole quindi ai ragazzi io lo dirò domani che non devono assolutamente andare né con remore né tantomeno con riguardo andiamo a fare la nostra gara il mister è consapevole che saprà caricare a giusto modo i suoi giocatori io lo aiuterò in questa impresa perché per esperienza so che siamo 11 contro 11 e quindi vedremo vedremo e di certo vedremo se poi ci saranno già per questa prossima e ultima gara d'andata d'eccellenza calabrese anche gli innesti di cui parlavamo poc'anzi un'ultima battuta invece con mister Madeo che vogliamo ricordare è fresco anche di patentino e quindi dopo il corso di Coverciano e quindi può allenare a questo punto in tutte le categorie del futsal fino alla serie A in attesa che qualcuno ritorni in serie A serie A2 dalle nostre parti ma poi chissà mister si può allenare in A2 in A anche in altre in altre città però quello che volevamo chiedere a mister Madeo come conoscitore del futsal nella girandola delle nostre squadre almeno quelle del nostro comprensorio l'indice un po' delle squadre tra soprattutto di serie B che è il campionato interregionale che più ci interessa da vicino quali pro e quali contro mister ma c'è sicuramente da mettere in evidenza il buonissimo campionato dell'Odissea in virtù anche dell'organico a disposizione e degli interventi di mercato che ha fatto inserendo dei giocatori importantissimi del Pizzo una vecchia conoscenza del calcio 5 coriglianese è stato per due anni qua a Corigliano sia in serie A che in serie A2 no due anni di A2 mi sembra del Pizzo e adesso è andata a rimporzare l'Odissea nonché Bavaresco e Taibi che sono due giocatori straordinari inseriti in un gruppo già forte potranno sicuramente dire la loro fino alla fine ovviamente non potranno a mio avviso competere con il Maritime Augusta che è una squadra fuori portata insomma una squadra che se avesse partecipato al campionato di A2 probabilmente lo avrebbe anche vinto quindi però l'Odissea bisogna dire che sabato scorso che ha perso proprio contro in Sicilia contro l'Augusta ha ben figurato perché insomma fino a 5 minuti dalla fine la partita era in equilibrio addirittura l'Odissea era passata in vantaggio il Rogit sta facendo un ottimo campionato perché insomma in base all'organico che ha a disposizione l'Euto sta facendo un ottimo campionato sono quindi in classifica quindi ad un passo anche loro dalla partecipazione alle finalette comunque i preliminari per poi poter fare le finalette di Coppa Italia chi invece del nostro Interland mi dispiace molto perché insomma è una squadra alla quale sono molto legato alla società sono molto legato è il Corigliano che purtroppo sta pagando a mio avviso una cattiva programmazione e il direttore sa quanto sia determinante per un campionato la programmazione la programmazione non può essere fatta a settembre o a ottobre o in corsa quelli sono semplicemente degli interventi straordinari per correggere qualche errore commesso in base di programmazione in base di allestimento organico la programmazione viene fatta ad aprile viene fatta a maggio viene fatta in giugno insomma quando c'è da costruire un organico e bisogna avere le idee chiare su soprattutto sul tipo di campionato che bisogna affrontare e sugli obiettivi che qualunque società si pone il Corigliano purtroppo sta pagando questo continuerà a pagarlo se non dovesse intervenire sul mercato ora io insomma mi sento un po' con loro pare che qualche accorgimento lo faranno tant'è che io ho ceduto Berardi a loro ahimè ho dovuto cedere Berardi per il rapporto che c'è insomma ma glielo ho dato volentieri insomma spero che possa dare un contributo insomma alla causa cariglianese per il resto bisognerà fare ancora qualcosa perché insomma è un campionato molto difficile molto 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 più complicato rispetto agli anni precedenti gli anni precedenti perché sono scesi di categoria tantissimi giocatori addirittura dalla A ce ne sono diversi scesi dalla Serie A quindi insomma però hanno delle squadre alla loro portata quindi credo salvo sciagure strane insomma dovrebbero riuscire a salvarsi ed è ovviamente uno dei temi che abbiamo anche già trattato un'ultima battuta anche con il direttore Gianni Beschina qui invece vogliamo chiedere proprio dall'alto dell'esperienza che si porta dietro come come direttore di gare quindi come arbitro sia nazionale che internazionale cosa si può attraverso questa esperienza trasmettere proprio agli addetti ai lavori quindi soprattutto ai giocatori agli allenatori e agli ambienti perché sicuramente sono tempi e ambienti diversi rispetto al calcio in cui in cui era inserito Baskin erano altri contestati però si può sempre così se vogliamo traslare o comunque donare qualcosa di sé a questo calcio di oggi ma innanzitutto due cose che sono intramontabili e determinate il comportamento e il regolamento sul fatto tecnico più di tanto non entro mai nel merito se non con qualche confronto con il mister ma è una cosa sua la deve gestire lui ed è giusto che con i suoi giocatori sia lui a parlare di questo specifico settore nel comportamento invece nel regolamento lì è proprio materia mia dove io esigo dai miei giocatori che siano prima di tutto persone per bene che non siano volgari che non usino frasari poco edificanti con questo sport che abbiano rispetto dell'avversario e della figura della terna arbitrale perché se mancano le condizioni e le basi per avere dentro ad ognuno di loro questo senso di di rispetto verso gli avversari e verso la terna arbitrale non si va da nessuna parte cioè il petto in fuori i frasari le minacce le occhiate maligne non servono a niente nel 2016 questi 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 mezzucci che si potevano usare per ottenere Dio sa quali vantaggi non non esistono più prima cosa seconda cosa il fatto regolamentare purtroppo molti giocatori che amano questo sport che praticano questo sport non conoscono le regole a volte vanno incontro a situazioni a loro sfavorevoli e indirettamente alla propria società proprio perché nel convincimento di andare ad ottenere quello che loro sono convinti di essere nella ragione purtroppo non corrisponde al vero allora io dico prima di tutto bisogna sapere le regole per saperle bisogna conoscerle siccome i regolamenti non ce le hanno io ogni martedì entro sempre in questo merito il mister mi concede un quarto d'ora parlo degli avvenimenti comportamentali e regolamentari successi nel campo entro nel merito con l'interessato con la speranza che parlandone sia evitato successivamente il ripetersi di questo comportamento ecco il mio lavoro principalmente è questo è quello di educare sia a livello regolamentare che comportamentale persone che amano questo sport che fanno sacrifici per farlo che si mettono a disposizione di una società per ottenere con le loro ambizioni il massimo di risultati però bisogna conoscere queste realtà se non si conosce il regolamento del gioco del calcio e lo si pratica è difficile poter fare bene parole sagge aggiungiamo noi e comunque anche figure e esperienze importanti di cui anche le nostre società possono così usufruire grazie se vogliamo alla sinergia che si viene a creare un po' tra gli ambienti volevo aggiungere qualcosa volevo aggiungere una cosa che è importante che si sappia per soddisfazione oltre che per il mio lavoro ma soprattutto per i ragazzi che cominciano a capire e a rendersi conto di questa di questa iniziativa noi siamo primi nella coppa disciplina un trofeo che Corigliano Calcio mai ha avuto modo e piacere di poter ambire se perlomeno di sperare di riuscire ad ottenere io ci credo ripeto siamo primi in classifica il gerone d'andata è finito praticamente con domenica ecco questo è il percorso che mi dà il giusto ripago per la funzione che ho in questa società beh questa è una buona notizia anche per ciò che riguarda la coppa disciplina noi vogliamo così chiudere ringraziando proprio i nostri ospiti e con ovviamente un ringraziamento e un in bocca al lupo per ciò che sarà quest'ultima gara al direttore Gianni Beschini che ringraziamo grazie a voi e ovviamente anche a mister Giuseppe Madeo del traforo rossano in bocca al lupo mister grazie che io volevo aggiungere a proposito del discorso della disciplina dei giocatori con un discorso che sposo appieno assolutamente noi lo scorso anno siamo arrivati secondi nella coppa disciplina per una squalifica nell'under 18 un allontanamento del mister dell'under 18 abbiamo perso la coppa disciplina adesso siamo di nuovo secondi siamo in corsa ed è un premio al quale io ambisco perché credo che l'educazione da trasmettere ai ragazzi e ai giocatori piccoli e grandi sia fondamentale perché molte volte viene utilizzato come alibi la terna arbitrale piuttosto che l'errore quindi assolutamente mi trovo d'accordo col direttore una giusta sintesi che noi così riavvolgiamo proprio nel fatto che spesso si cerca di crescere prima gli uomini e poi gli atleti grazie ancora mister in bocca al lupo anche per quello che sarà il proseguo crepe il lupo grazie a voi e noi ringraziamo tutti voi l'appuntamento è con la prossima puntata ancora con nuovi ospiti per tornare a parlare ancora di calcio dilettantistico e anche di futsal a presto operazione sport in collaborazione con